Questa è un'azienda seria. Noi non costruiamo mica delle cappannine di fango in Africa. Dietri personale. Chi se ne frega? Io sono di Saronne. Che cos'è questa pubblicazione? E' questa è sua figlia che si sposa. Tuo figlio si sposa. E chi è lei? E' un influencer. Ah, è un medico. Pensi come piccolo il mondo. Cioè, per me, per lei e la sua taglia, no? Scommetto che lei sceglie la destra, vero? Io seguo il Nord. Sei del Nord e pure ricco! Io ho trovato un sistema per... Per far saltare direttamente il matrimonio? Magari. Madonna, mi piacciono le donne come lei. Beh, le profiterò. Dolce, ma con le palle. Punto primo, albero genealogico. Punto secondo, esame del DNA. Punto terzo, la finina penale. Si ricorda? Lavorare meno, lavorare tutti. La detta sta stronzata. Oh, sindaca. Quello di prima. Ma dai fin di Totò che non c'è più la media a Milano. Vabbè. Quando voi avete surriscandato il pianeta col vostro ragu...